Da una parte la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato di Renato Boraso al Tribunale del Riesame di Venezia, dall'altra l'annuncio del sindaco Brugnaro di una possibile costituzione parte civile del Comune di Venezia contro il suo ex assessore e chi ha danneggiato l'amministrazione. Sullo sfondo il conto alla rovescia di un consiglio comunale infuocato venerdì mattina per il quale le polemiche sono già cominciate dopo la decisione di convocarlo in Via Palazzo a Mestre, sede più piccola di Caffarsetti e reputata dalle opposizioni inadatte ad accogliere cittadini, comitati e associazioni che intendono assistervi. A Venezia il Tribunale del Riesame è chiamato a valutare anche le posizioni degli imprenditori Fabrizio Ormenese in carcere, Marco Rossini e Matteo Volpato ai domiciliari come Alessandra Bolognin, direttrice della municipalizzata IVE. Per il suo avvocato le dimissioni di Boraso dall'assessorato non rendono più possibile la reiterazione del reato. Intanto, in vista del consiglio comunale a Mestre, la maggioranza ha rinserrato le fila. Il sindaco ha ribadito la volontà di andare avanti, affermando che non avrebbe potuto mai neanche immaginare ciò di cui è accusato Boraso. Sul fronte delle opposizioni, tutta la città insieme ha depositato un accesso agli atti su progetti ed eventuali atti di consegna dei lavori per bloccare il bosco dello sport e liberare fondi per i grandi problemi della città.